...del sole che ci stanno tanto a cuore, ci raccontano la storia del monte Pavione, di Casera Herrera, della Pusa delle Vente, di quei circoli inlazali che rappresentano il nostro orizzonte. Alto il suono, alto il canto! E perché non ricordare il gruppo di archiviani della montagna, il gruppo Agogo, quarentunesima, quarantaduesima, quarantatresima batteria e batteria comandi servizi. C'è gente che ci ha lasciato il cuore.